Da qui dovrebbe essere tutta dritta. Perfetto. Non male, vero? Sì. Perfetto. Occhio la testa quando entri. Ok, ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba, ma di cavo a starle dietro. Credo che... che voi due sareste diventate ottime amiche. Ti sarebbe piaciuta e tu saresti piaciuta a lei. Sì. Guarda là giù. Ci siamo quasi. Ormai siamo vicini. Ok, ti tengo. Dammi la mano. Ok, andiamo. Aspetta. Là a Boston. Quando mi hanno morsa. E non ero sola. C'era anche la mia migliore amica. Ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare. E allora... Lei ha detto... Aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. È lì. Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi Sam. Tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Ho dovuto... Luttare a lungo per sopravvivere. E non... Qualunque cosa accada. Continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, però... Giuramelo. Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro. Ok. Grazie a tutti.